Brera Design District giunge alla sua ottava edizione e allarga i suoi confini verso i bastioni di Porta Nuova. Il tema dell'edizione 2017 è il gioco. Nella scorsa edizione del fuorisalone Brera Design District ha visto più di 168 eventi, 295 aziende coinvolte con un passaggio di oltre 250.000 persone e 22.000 immagini Instagram. Il calendario proposto per la Design Week è ricco di eventi, incontri, iniziative culturali. Primo fra tutti White in the City, evento promosso da Oikos che coinvolge numerosi big dell'architettura, tra cui David Cipperfield, lo studio Libeskin, Patricia Orchiola e Zadida Architects. Si tratta di un percorso che racconta il colore bianco nelle sue mille sfaccettature cromatiche e simboliche, passando per l'Accademia di Belle Arti di Brera, la Pinacoteca, Palazzo Cusani, l'ex chiesa di San Carpoforo. Nel cortile in via Palermo 5 troviamo l'installazione Flower Print, presentata dallo studio di architettura Più Arc. Si tratta di una parete realizzata con duemila fiori, tra cui rose policrome, gigli orientali, garofani e piante aromatiche. Altro appuntamento da non perdere nel cuore di Brera, Agape Casa, con l'allestimento dedicato alla collezione Mangiarotti, con arredi preziosi e senza tempo, progettati dal grande maestro. Per i nottamboli segnaliamo la notte bianca del design a Brera il 7 aprile, con l'apertura prolungata di tantissimi showroom, oltre a una serie di iniziative speciali che animeranno la zona.